Mario come vai? wie원� come hai? ho 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 mi hai messo un po' un po' pagina ma hai una gran fatica come fatica non ho intanto ma in mattina quando gli preferisci da fare perché ti fai o o o o o o o e loro scappi ma il problema è la sera qua 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 lo Qua l'ho messo dentro tutto, c'è sempre la gallina che mi fa incassare, i della caccia a destra e lì a va a sinistra, i della caccia a sinistra e lì a va a destra. Ah 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 allora la 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 fisse i i gli occhi..mo le belle rotte, ooo 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 eheh E MARCHI sc'll' en tut! Grazie a tutti